Con precisione e organizzazione in pure stile tedesco, nelle prime ore di oggi, 8 gennaio, è iniziato il blocco stradale annunciato dagli agricoltori della Germania. Numerose strade e accessi alle autostrade sono stati bloccati da migliaia di trattori e camion in tutto il paese. Anzi, anche un buon numero di motoristi hanno attraversato i confini con l'Olanda, la Francia e la Polonia e si sono uniti alle proteste. Il governo del traballante Scholz è già ascesso a qualche compromesso, proponendo che il taglio ai sussidi del gasoleo sia graduale durante i prossimi anni, ma questa misura non è stata accettata dagli agricoltori che per il momento continuano con il loro piano di proteste per tutta la settimana.